Tutti la acclamano, tutti l'aspettano, tutti la vogliono Sto parlando di Jenna Ortega Che dopo la sua ultima performance nei fani di Mercoledì Adams Ha fatto, diciamo, impazzire i fan Ma la domanda è Qual è stata la sua evoluzione prima di arrivare a questa serie? Ebbene sì, oggi in questo video io ve ne parlerò Quindi se siete interessati, io sono Captain Nerd E bentornati su Ciak e Azione L'attrice esordisce nel 2012 nella prima stagione di Rob the Babybug Di seguito arriva anche nella nona stagione di CSI New York Per poi debuttare a livello cinematografico nel 2013 Con una parte in Iron Man 3 Entrando a far parte del Marvel Cinematic Universe Proseguendo ha una breve parte in una serie di nome Rake E poi prende parte anche al film Jane the Virgin Nel 2015 invece entra a far parte della serie Richie Rich Interpretando Darcy, la migliore amica di Richie Tra il 2016 e il 2018 fa parte della serie Disney Channel Harley in Mezzo Per poi arrivare nell'anni successivi con la serie Disney Elena di Avalor Successivamente la vediamo nella serie Netflix You E poi arrivare anche nei film La Baby Sitter, Killer Queen e Yes Day uscita nel 2020 E negli anni recenti, ora sto parlando del 2021-2022 Prende parte anche al film The Scream 6 Il quale ha anche il privilegio di scrivere parte della scrittura Incredibile sta figliola E l'ultima sua performance, come vi dicevo anche all'inizio del video E' stata quella di Mercoledì Adams Nella serie Netflix che l'ha resa molto molto famosa nell'ultimo periodo Anche grazie a una famosissima scena di ballo Quindi ragazzi che dire, questa ragazza è fantastica Ha fatto un'evoluzione pazzesca da quando era bambina Adesso che ha più di 20 anni Dovrebbe essere nata nel 2002 se non mi sbaglio Quindi se la guardate è strepitoso E' resita da quando era molto bambina Quindi che dire, è un'attrice nata Non c'è nient'altro da dire Secondo me avrà una carriera sempre più in crescita Dato la popolarità che sta avendo con questa serie E se siete interessati a vedere le anticipazioni della seconda stagione di Mercoledì Mi raccomando, cliccate su qualche altro video Perché ne ho parlato nello scorso Quindi ragazzi, ecco l'evoluzione di questo personaggio Spero che vi sia piaciuto E vi farò presto altre evoluzioni di qualche altro personaggio Se comunque il video lo avete apprezzato Io vi ringrazio Da Ciaccazioni e Captain Nerd Qui oggi è tutto E noi ci rivediamo presto A un prossimo video Ciao a tutti ragazzi Grazie